Questa mattina si è tenuta a colli al Metauro un'inaugurazione che più di altre lascia negli amministratori il dolce sapore della bontà. Una rampa di accesso ad una scuola pubblica, abbattendo così le barriere architettoniche, favorendo l'inclusione e la coesione sociale, tra diversamente abili e normodotati. E le poche gocce di pioggia che sono cadute nel momento preciso del taglio del nastro non hanno guastato l'atmosfera di giubilo di maestre, alunni e amministratori alla scuola dell'infanzia Rodari di Calcinelli. Non è, diciamo così, un'opera eccezionale, nel senso che è un'opera che in teoria dovrebbe già essere funzionale in ogni istituto scolastico, in ogni plesso pubblico. Purtroppo qui alla scuola materna Rodari di Calcinelli non c'era un accesso, diciamo così, accessibile a chi ha difficoltà motorie, se c'è qualcuno con una carrozzina che deve entrare o chi è che ha anche un'invalidità temporanea o anche permanente, aveva, diciamo così, difficoltà ad entrare a scuola perché effettivamente c'erano degli scalini e doveva passare dal retro, una cosa insomma non decorosa e non funzionale. Ecco, abbiamo voluto portare avanti questo lavoro, ripeto, non è un lavoro eccezionale ma credo che sia un lavoro invece molto significativo che vuol dare proprio un segno di attenzione, di disponibilità, di funzionalità, soprattutto verso chi è che ha una difficoltà, ripeto, e che quindi non potrebbe accedere come tutte le altre persone. Quindi sono molto contento, è sempre raro di questi periodi per i sindaci inaugurare qualcosa perché sapete tra crisi economiche, mancanze di fondi, mancanze di soldi, in questo caso ogni qualvolta si porta avanti una iniziativa innovata o particolarmente fiero ma soprattutto ne sono felice per tutta la comunità. Taglio del nastro quindi alle 10.30 per i lavori fatti dal comune alla scuola per un importo di 30.000 euro che hanno riguardato oltre che la realizzazione della rampa anche altre opere di manutenzione. in una scuola modello della comunità che ospita anche un nido ed è una delle quattro presenti sul territorio dove vengono anche effettuati stage universitari e alternanza scuola lavoro per gli alunni delle scuole superiori e dove gravitano 46 bambini, quasi tutti residenti a Calcinelli, seguiti da sei insegnanti, due dei quali di sostegno.